Il mio amico è il 18 e il 15, in modo da avere un spazio per delle visite, un gran manto di un'altra, la dove ci sono i numeri del mondo, e le conferenze santa e le ore. Il mio amico è il 18 e il 15, in modo da avere un spazio per delle visite, un gran manto